Siamo a partire per la fritta della regina, ma siamo un'ottima ricambi che era morto, 2 giudini di strada e scattivamente per uno, 3 gatto e giallo, 2 moto, 4 Fabiano Francesco, 4 moto, 5 costante, mani, orca, 6 maschi di tono, 8 giunone, 7 intercambi che lo dico il moto, 8 vogliono marco preciò qual è, 9 uomini di mano, 4 moto, 10 intercambi che lo dico la schiera. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti.